Buongiorno a me non mi può dire che se vedi mi riesci a fare lo zoom non mi può dire che se vedi non mi può dire che se vedi non mi può dire che se vedi si no, guarda quella più grande Francesca, Viola e quella di Viera che hai visto quella in città e io stavo andando a fare anche femminile ma non mi piace ti lascio svegliare ti lascio svegliare ti lascio svegliare amore ti lascio svegliare amore anzi cancelli, si vedano, mi va di tipo a me, a me, a me a me, a me a me, a me a me, a me a me a me a me Sì, è buonissimo. 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 Sì, è buonissimo.